Nuova vita al Teatro Michetti di Pescara. L'amministrazione comunale, in una conferenza congiunta al governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, annuncia interventi che interesseranno da un lato l'adeguamento alle vigenti norme sulla sicurezza e ad altri interventi di opere civili. Finalmente arriviamo ad una fase di completamento del Teatro Michetti dopo che nella passata amministrazione di centro-sinistra l'avevamo acquisita al patrimonio comunale, era di soggetti privati, l'abbiamo resa pubblica, però sono cambiate le leggi soprattutto per quanto riguarda la sismicità del territorio pescarese e quindi si è reso necessario ristrutturarlo anche in funzione di renderlo agibile sotto l'aspetto sismico. Grazie a un intervento, o meglio adesso un duplice intervento della regione attraverso i fondi PARFSC abbiamo a disposizione 2 milioni di euro. Il primo lotto funzionale è quello della ristrutturazione sotto l'aspetto statico, poi ci sarà un secondo intervento per quanto riguarda il completamento della struttura e poi alcune opere finali, alcuni ammennicoli finali e finalmente il Teatro Michetti tornerà nella fruibilità della collettività. Non solo pescaresa.